ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a l'aco l'aco hamburg 8330 din 8330 dove questa specifica altro non è che una certificazione per gli orologi da pilota che poi vedrete bene nel prosieguo del video di cosa si tratta l'ho scelto perché è un orologio che ho visto lì in vetrina e ho detto ma questo l'aco qua io non l'ho mai recensito è carino è simpatico a vedersi fammelo un po prendere così senza sapere nulla solamente dal lato estetico poi quando ho cominciato a studiarlo a cercare di capire di cosa si trattasse ecco fatto che salta fuori tutta una serie di specifiche situazioni interessanti informazioni interessanti e questo sta proprio ad indicare come noi vediamo un orologio al polso di una persona oppure in vetrina no e lo vediamo per quello che è così esteticamente senza sapere cosa c'è dietro veramente senza veramente saperlo me ne rendo conto io che con questo orologio ho scoperto delle cose che me l'hanno fatto rivalutare da 5 a 10 l'ho preso solamente per l'estetica perché mi sembrava robusto ok c'è tanto 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 altro lo vedrete poi chiaramente me l'ho messo a disposizione l'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che parte l'ufficiale del canale e vi offre un trattamento di favore e a me li mette a disposizione così come sono ora devo anche precisare una cosa il prezzo di listino di questo orologio è 1790 in italia e lui lo fa questo prezzo perché è quello che l'aco lo vende sul sito tedesco laddove però la liva è 16 per cento quindi in italia verrebbe a 1850 lui fregando se lo vende a 1790 cioè lo stesso prezzo dell'iva tedesca altrimenti uno compra piuttosto sul sito di l'aco no quindi al netto degli sconti il prezzo di listino è quello tedesco pari 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 quindi poi ora lo vedremo per benino e detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo long in admiral del 1973 barra 74 insomma giù di lì con il suo vai calibro l 633 che altri non è che un eta 28 24 simpatico orologio che giuro prima o poi me lo tolgo è cioè da quando l'ho comprato eh lo sto utilizzando molto è preciso è bello al polso e a volte mi domando ma scusa ma quasi quasi con 350 euro che l'ho pagato ecco fatto che potrei avere l'orologio un orologio solo invece di averci scatole scatole un orologio solo eccolo qua mi dà soddisfazione no sono sicuro che poi dopo non mi basterebbe no non mi basta lo so già che anche a lei non gli basta la scipita le guarda gli orologi magari io me li dimentico ma lei li controlla li vede e quando li vede è contento ora giriamo la camera diamo un sguardo a questo laco hamburg e poi ci ritroviamo qui come al solito per le considerazioni finali diamo il via alle danze cercando di comprendere le proporzioni dell'orologio diametro cassa 43.6 spessore 13.3 mm ingombro trasversale al polso 49.2 e interasse ansa da 20 mm una volta tanto non dobbiamo curarci della vestibilità in quanto si tratta del vero orologio strumento realizzato per uno scopo ben preciso un pilot dedicato al volo è certificato din 83 30 e qui occorre aprire una parentesi si tratta di una certificazione tedesca che mira a soddisfare tutti i requisiti moderni necessari a garantire la conformità alle regole del volo strumentale e a vista inteso come professionale e al massimo livello una certificazione sviluppata da quattro case orologere sin la costoa e glassute original in collaborazione con alcuni enti tedeschi direttamente coinvolti nel campo dell'aviazione tra cui la facoltà di tecnologia aerospaziale dell'università di acquisgrana luftanza cargo e airbus helicopters quali sono i requisiti richiesti leggibilità rapida e chiara del quadrante sia di giorno che di notte utilizzo con guanti da pilota elevata resistenza agli urti e alla forza centrifuga regolarità di marcia tra i meno 15 e più 55 gradi resistenza alle vibrazioni protezione dai campi magnetici resistenza ai liquidi comunemente riscontrati nel settore dell'aviazione carburante lubrificanti liquidi di pulizia e antighiaccio compatibilità con le apparecchiature per la visione notturna questo chiarimento era necessario per poter comprendere a pieno il ruolo dell'orologio e poterne così apprezzare anche più piccoli dettagli un diametro da 43.6 dicevamo che è misurato alla ghiera come spesso accade la cassa sottostante più contenuta ed è quantificabile in un diametro di 42 mm la conseguenza è che sporgendo diventa facilmente manovrabile grazie anche ad una dentatura amerlo particolarmente ampia e facile da impugnare anche indossando i guanti ovviamente è bidirezionale in quanto il suo fine ultimo è quello di misurare gli intervalli di volo privilegiando la semplicità di manovra a discapito della unidirezionalità che qui avrebbe poco senso funzionalità eccellente quindi che fa il paio con certe soluzioni stilistiche tecniche che è bene evidenziare in primis l'inserto ghiera realizzato in ceramica opaca va ad incastrarsi tra la struttura ed il vetro in modo da risultare più basso rispetto al bordo esterno una sorta di ulteriore protezione contro gli urti accidentali anche se la ceramica è notoriamente di per sé antigraffio inoltre l'intera ghiera è fissata tramite l'utilizzo di micro viti poste sulla circonferenza una soluzione tecnica pregevole che prende il sapore di artigianalità di cose fatte come si deve tra l'altro non sono le uniche vite a vista in quanto dalle anse forate fanno capolino i perni a vite di similfoggia che hanno il compito di tenere in sede il cinturino personalmente trovo questi piccoli dettagli di mio gradimento aumentano quella sensazione di orologio costruito senza fronzoli tra virgolette che trovo perfettamente in linea con lo spirito dell'orologio siamo subito scesi nei dettagli ed abbiamo tralasciato il quadro complessivo e quindi è caso di fare un passo indietro ed osservarlo nella sua globalità se il design della cassa è privo di spunti stilistici particolari lo sono invece contenuti l'intero orologio infatti realizzato in acciaio inox 904l in luogo del classico 316l lo stesso che ad esempio utilizza rolex per i propri orologi il 904l ha una percentuale più alta di nickel di cromo e contiene anche del rame è quindi più resistente alla corrosione e agli acidi rispetto al 316 ed è anche più brillante quando viene lucidato grazie agli alti livelli di cromo non è però il caso del nostro laco qui la lucidatura non sanno neppure cosa sia ogni singola superficie presenta una finitura sabbiata scura che ha il compito di eliminare qualsiasi possibile riflesso in cabina di pilotaggio come vantaggio collaterale anche se inutile ai fini dell'utilizzo avviatorio è quello di essere meno incline a graffiarsi e a mostrare i segni del tempo insomma una struttura generale che privilegia l'austerità e la funzionalità in luogo dell'apparenza fine all'edonismo proprio di noi appassionati dimostrazione nel fatto che le specifiche vanno oltre ciò che ci si aspetterebbe da un pilot 20 atmosfere di resistenza alla pressione è un dato da diver che va abbondantemente a coprire la richiesta di impermeabilità ai liquidi della certificazione 8330 così come di estrazione diver è il comparto spallette corona con quest'ultima che si accoppia avvitandosi ad un cannotto maschio inserito nel lato cassa particolarmente affascinante poi il fondello a vite realizzato in acciaio pieno vede in basso rilievo l'effigie di un aereo di linea al decollo da notare il fatto che con questo aeromobile civile si va a chiarire che si tratta di un orologio dedicato all'aviazione in generale e non ad un settore prettamente militare al di sotto batte il calibro sellita sv200 nella sua versione top grade versione di pregio che prevede l'utilizzo di materiali migliorativi rispetto alla base e una regolazione cronometrica effettuata su cinque posizioni non poteva essere diversamente visto che la certificazione dino 8330 prevede parametri stringenti in quanto a regolarità di marcia alle diverse temperature solamente un calibro ben regolato e con i materiali giusti poteva adempiere a telescopo ma tutte queste caratteristiche tecniche tutta questa funzionalità devono poi essere propedeutiche a segnare il tempo e a leggerlo come si deve e allora verifichiamo dando uno sguardo al lato a fondo nero opaco e accento in superluminova bianco il non plus ultra in fatto di leggibilità tra l'altro il posizionamento del datario permette all'indice ad ore 3 di essere completo e questo dona una certa simmetria orizzontale che agevola sia la lettura che il corretto orientamento quest'ultimo è anche facilitato dalla presenza del marker ad ore 12 il classico triangolo che affonda le radici negli anni 40 quando l'aco era in prima linea come fornitrice di orologi da osservazione insomma un dial pulito e nitido con sfere ad aga riconoscibili e con minuteria su view ben marcata mentre non marcate sono le diciture riportate al centro che sono realizzate in grigio scuro a bassa visibilità perché semplicemente perché la certificazione 8330 prevede anche l'assenza del logo o perlomeno la bassa visibilità questo perché non essendo funzionale alla leggibilità non deve risultare eccessivamente invasivo ed infatti le scritte e la sono gli unici elementi che scompaiono al buio tutto il resto è un trionfo di luminescenza che albero di natale spostati sicuramente nel cockpit non ci saranno problemi di lettura prima di parlarvi del cinturino voglio menzionare la scatola in quanto è qualcosa di originale una valigetta realizzata in alluminio con i paraspigoli e con materiale assorbi urti all'interno la trovo in linea con lo spirito tecnico dell'orologio così come lo è il cinturino che è realizzato in trama di nylon un cinturino sintetico che vede nella impermeabilità il suo punto forte pur essendo idro repellente e quindi tecnicamente evoluto riesce anche a risultare apprezzabile alla vista cuciture bianche e fine trama intrecciata lo rendono tutto sommato consolo anche all'utilizzo giornaliero da segnalare poi la fibia anch'essa in acciaio sabbiato e perfettamente in linea con il resto dell'orologio possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali il cinturino idro repellente è già una specifica tecnica non da poco nel senso che non richiede l'utilizzo di un bracciale spesso abbiamo visto dei diver magari anche in stile retro che arrivano con il bracciale in pelle e molti si lamentano sì ma come si fa a fare il bagno con il cinturino in pelle io ce lo faccio quindi me ne importa assai però in questo caso abbiamo il cinturino in tessuto tecnico idro repellente è bello di qualità spesso però è un punto debole che magari è un po' rigidino lo vedete un po' rigidino come disse Rocco Siffredi ma spero che col tempo si ammorbidisca un po' ma se non si ammorbidisce è il fatto che proprio si tratta di un orologio strumento cioè è un classico tool watch uno di quegli orologi che si comprano per volere emulare diciamo il bisogno di un orologio tecnico oppure perché se ne ha veramente bisogno se siete amanti del volo se siete ma basterebbe anche che ne so un deltaplano no un parapendio queste cose qua questo è un orologio tecnico da utilizzare in quelle situazioni lì punti deboli continuiamo coi punti deboli che non la corona la corona l'avvitamento della corona è un po' intruppante ultimamente mi capitano tutti a me però non è la prima volta che ne trovo uno così poi non si sa mai se è l'esemplare che hai per le mani o è per tutti in questo caso occorre fare per non sbagliare spingere durante l'avvitamento fare mezzo giro il senso anti orario e poi avvitarlo il senso orario allora prende se voi vi spingete partite subito a avvitare si intruppa come si dice si intruppa punto debole un altro punto debole potrebbe essere il datario qualcuno dice ma perché lo mettono lì il datario che non è non è un diver serve perché le specifiche del din 8330 prevedono la leggibilità che gli indici siano visibili quindi la data l'hanno spostata ore 4 ok che piace che non piace anche a me non piace avrei preferito senza questo punto capito senza perché tanto non la leggo io non la leggo neppure con gli occhiali adesso quindi non me ce la mettete e siamo tutti contenti però come punto debole dire che insomma non serve metterla lì perché l'indice a ore 3 non serve cancellarlo è sbagliato perché questo orologio qua ha nelle specifiche si vede le specifiche precise cioè come vi ripeto voi lo vedete lì messo in vetrina così e vi sembra un orologio come un altro poi andate a capire a capire meno male che li prendo in mano no e capisco cosa c'è perché altrimenti sarebbe rimasto anonimo per me lì fermo lì bello ma senza conoscerlo acciaio 904l segue le specifiche din 8330 cioè è un orologio pilot con la impermeabilità di 200 metri ci potete anche andare al mare volendo anche se non è un diver legibilità perfetta tutte le caratteristiche antimagnetico resistente agli urti cioè passa tutta una serie di test per il quale viene definito orologio certificato per il pilotaggio aereo per l'aviazione mi piace poi anche la cassa sabbiata in questo modo qua che sicuramente evita di portare con sei grafi i segni del tempo poi logicamente che se gli date i botti forte qualcosa succederà però così a volte gli orologi lucidi basta toccarli per vedere le micro airlines no quelle che ti rimangono qua per qualche giorno poi dopo ci fai ci fai l'abitudine qua prima che vedi una micro airlines credo che passeranno degli anni perché è impossibile graffiarlo orologio che vale quello che costa secondo me è uno di quei casi ah e cavoli e poi anche il calibro inseriti sv200 top grade uno dice ce lo puoi mettere anche un sellit sv200 standard come fanno in tanti e a quel prezzo lì ci stai no è top grade perché deve resistere la precisione di marcia a un range di temperatura che tocca in meno 15 gradi cioè se noi prendiamo gli orologi un orologio con un calibro di quelli entry level un nh35 miota 8000 è fatico a pensare che a meno 15 gradi nel tempo cioè esposto a meno 15 gradi per una durata di tempo consistente riesca a restituire le stesse prestazioni che restituisce a temperatura ambiente e infatti se andate a leggere le specifiche di quei calibri parlano di un reggito di temperatura che non va sotto zero non ci va quindi dovete calcolare anche questo sopra orologio che è poi 43.5 mm in tanti non si entrano della misura ma devono essere così i pilot cioè se te questo orologio qua lo compri lo prendi non per indossarlo sotto una camicia e andare al ristorante scicchettoso che c'hai sotto casa questo qua lo compri perché vuoi un orologio strumento uno strumento come fosse una bussola un qualsiasi altro strumento tecnico l'orologio sono d'accordo con voi che oggi si usano gli orologi digitali gli smart watch se vuoi qualcosa di tecnico veramente ma se vuoi rimanere nel classico nel formale nell'orologeria meccanica tradizionale ed avere un orologio strumento questo è l'orologio strumento per me è promosso poi da qui a dire che io lo vorrei in collezione ce ne passa perché magari con quei soldi mi prendo un'altra cosa ma se uno è interessato ad avere un orologio strumento un tool watch è un po come zin un po come zin diciamo infatti hanno fatto la specifica dino 8330 l'hanno creata laco zin glassuto original e stoa dove stoa che chi non lo sapesse è uno di quei marchi storici che facevano i flieger per gli osservatori nei bombardari dei bombardieri della seconda guerra mondiale ma mi sto dilungando troppo io l'orologio ve l'ho fatto vedere voi lo avete assaggiato se vi piace bene l'assaggio finale è quello poi la prova al polso e vederlo dal vivo è ora vi ho fatto sentire uno stuzzichino comunque vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video con i suoi pro e i suoi contro e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao